Da lunedì 15 giugno ha preso il via il nuovo progetto Easy Alghero. Nella conferenza stampa di presentazione sono state esposte le diverse iniziative di accoglienza e informazione turistica. Un servizio di bassa navetta collegherà la città con le principali spiagge. Inoltre verrà distribuita una guida turistica bilingue italiana-inglese contenente indirizzi di strutture ricettive, uffici turistici, attività commerciali e affiliate e punti di interesse di Alghero. Con la Easy Alghero Card, carta turistica multiservizi, sarà possibile godere di sconti e agevolazioni presso tutte le attività affiliate.